Oggi ci troviamo a Sirmione, precisamente la spiaggia Brema e che è tre chilometri prima di Sirmione. Partirò da qua per farvi vedere Sirmione da un altro punto di vista, farò il giro della penisola di Sirmione dall'acqua con il mio sap per farvi vedere il castello Scaligero, le grotte di Catullo, la spiaggia Zamaica, poi tornando indietro passerò sotto il punto d'ingresso di Sirmione Vecchia, sotto il ponte del castello Scaligero e tornerò qua, circa otto chilometri con il sap, via. Si parte! Qua siamo ancora con un bar, magnifica vista delle ville, degli hotel, con piscina. a pieno di bar, ristoranti abbastanza cari. Ci stiamo avvicinando sempre di più al castello e dopo lo attraverseremo. La punta di Sirmione, passeremo sotto il ponte. Siamo proprio ai piedi del castello di Sirmione. Sotto c'è il porto, hotel Sirmione, delle varie barchettine che fanno il tour dell'isola, un elicottero giusto a controllare quello che sto facendo. Ecco le famose terme di Sirmione, acquaria, con le varie piscine all'aperto, sdraio, lettini e anche lettoni. Oggi, primo agosto 2022, il lago non è mai stato così secco. Di solito, questo pezzo di spiaggia qua, rocciosa, è totalmente sommerso dall'acqua. Eccoci arrivati in spiaggia Giamaica, sotto le grotte di Catullo. Un attimo di pausa, siamo arrivati alla punta di Sirmione, spiaggia alla Giamaica. E' una spiaggia perfettamente di roccia. Siamo formate dalle piscine naturali, dove turisti si rilassano comunque in acqua. Una spiaggia di roccia. Ecco cosa c'era sotto due metri di acqua. Questa è la famosa spiaggia Lido delle Bionde, anzi era, perché è prosciugata, non c'è più acqua. Questa è la spiaggia appena si entra nel castello, sulla destra. Una spiaggia sotto la destra, sotto il castello. Grande hotel Terme Huachu. Eccoci all'ingresso del castello di Sirmione. Passare direttamente sotto il porto, anche se non fosse molto consentito. Superato l'ingresso di Sirmione. Sperando che non mi arresti. Ed eccoci sulla via del ritorno. 8 km su 9 fatte. Dai, ne manca solo uno. Non mi aspetta una bella birretta. Vai Davide, vai! Eccolo addirittura d'arrivo. Dopo due ore e mezza di circunnavigazione della penisola di Sirmione. Tornato. Finalmente perché avevo fame, lo stavo aspettando. Mangiamolo, può anche ripartire. Conclusione finale. E' stato divertente fare questi 8 km col SAP. E' a volte anche un po' duro perché a volte le onde e il vento erano abbastanza forti. Però ho visto i punti principali, il castello Scarigero, le belle ville e hotel che ci sono qua attorno. Le grotte di Catullo, che poi non sono grotte, ma è una villa. E soprattutto la spiaggia giamaica che è diventata una spiaggia enorme di roccia caraibica. Molto bello. Sono passato sotto il ponte del castello Scarigero di Sirmione. E pensavo mi rompessero le palle qualcuno, invece non aveva fatto nessuno. attraversando il porto e mi sono divertito. Spero che vi siate divertiti anche voi. E avete visto il lago sotto un altro punto di vista. Consigliato.